Vengasi è caduta stamina. Gli inglesi ci hanno già distrutto due convogli di ritorno dalla Cirenaica e quasi certamente distruggeranno anche l'ultimo. Che ne sanno loro che si tratta dello sgombero di profughi civili, di donne e di bambini? Ma che possiamo farci? La nostra squadra è impegnata in Mediterraneo occidentale e lei con i suoi minuscoli mezzi non riuscirà certo a intercettare le navi inglesi in alto mare? No, non pensavo lontanamente questo, signor Ammiraglio, ma non potrei tentare di colpirle quando saranno rientrate alla base? Dovranno pur rifornirsi di nafta, no? Le dirò che l'ultimo nostro convoglio da Vengasi se sarà attaccato quasi di certo lo sarà da un incrociatore pesante che in questo momento dirige verso Suda. Verso Suda? Quando dovrebbe arrivarci? Domani pomeriggio. Nel qual caso...